Vedi questo corpo, come abbiamo ripetuto ancora e ancora, arrivando allo stesso punto, quando è nato era così piccolo, ora è diventato tanto così. Di certo non hai avuto bisogno di nessun aiuto esterno per stirarlo fino a questa dimensione, non è così? Ciò che è la fonte della creazione, ciò che chiami il creatore, sembra star funzionando dal tuo interno, non è così? Sì? Il creatore sta funzionando, cioè, questo significa, il costruttore di questo corpo e di questa esistenza sembra star funzionando dal tuo interno. Se il costruttore è all'interno, se gli consenti di funzionare, aggiustare dei piccoli difetti del corpo, pensi che sarà un problema? Quindi Shambhavi Mahamudra sta solo creando un passaggio affinché la tua essenza più profonda funzioni. Se le consenti di funzionare, la natura di questo, nello yoga chiamiamola la tua essenza più profonda, il corpo di beatitudine. Da sempre la gente dice che se entri in contatto con Dio diventerai beato. Hai presente? Brahmanand? Sai, stanno parlando di questo? Vedi, sono modi diversi di presentarlo. La tua essenza più profonda è chiamata corpo di beatitudine. Ora, tutto quello che stiamo cercando di fare è il tuo corpo fisico, mentale, pranico ed eterico. Li allineiamo in modo tale che l'essenza più profonda al tuo interno, il corpo di beatitudine, trovi espressione. Lo Shambhavi non sta creando estasi. Lo Shambhavi sta solo allineando questi quattro corpi affinché questo, la fonte della creazione, trovi espressione. Se la fonte della creazione dentro di te, il creatore, trova espressione, aggiustare il tuo cuore, fegato, rene, pensi che sia un gran problema? Il costruttore, quando esce fuori ed inizia a funzionare, ogni cosa viene aggiustata. Vedrai, miracolosamente la salute andrà a posto. Posso mostrarti migliaia e migliaia di persone che sono uscite dai propri disturbi proprio così. Come un miracolo. È un miracolo? Ogni cosa che non capisci, la chiamerai un miracolo. Non è vero? Supponi di non sapere cosa sia l'elettricità e che io ti dica, stai a guardare, toccherò il muro e questa sala sarà inondata di luce. Mi crederai? No, mi crederai. Dirai, no, cose simili non sono possibili. Ora, se lo tocco e all'improvviso c'è luce ovunque, ora pensi che io sia il figlio di Dio o il messaggero di Dio o Dio stesso, a seconda della cultura da cui provieni. Non è vero? Ogni cosa che non capisci è un miracolo nella tua comprensione. O non ci sono miracoli nella vita, ogni cosa accade tra causa ed effetto, oppure ogni cosa è un miracolo. Questa vita non è forse un miracolo? Tu e Dio seduti qui su questo pianeta rotondo che viaggia a una velocità straordinaria, non è forse un miracolo? Noi seduti qui a parlare di tutte queste assurdità, non è un miracolo? Quindi se lo osservi, se hai gli occhi per vedere, ogni cosa è un miracolo. Oppure niente è un miracolo. Questi sono due modi di approcciare la vita. Queste sono due forme di yoga. Uno è vedere ogni cosa come fosse sacra. L'altro è vedere ogni cosa come un'assurdità totale. Ma ora il tuo problema è che ciò che ti piace è sacro, ciò che non ti piace è un'assurdità. Questo è un problema, è una trappola. Ogni cosa è sacra. Questo è un bel modo di vivere. Ogni cosa è un'assurdità. Anche questo è un bel modo di vivere. Queste persone sono sacre, queste persone sono un'assurdità. Questo ti distruggerà. Anche questo è un bel modo di vivere.